Sul resto Portovecchio io non voglio la speculazione, nessuno l'ha mai detto, anzi mi arrabbio con il sindaco di piazza in questo momento perché non partono tutte quelle cose che invece darebbero il via a un'operazione trasparente di ricerca degli investitori su progetti che noi a Trieste dobbiamo definire, che sono progetti di tipo turistico io credo prevalentemente perché stiamo parlando di un frontemare bellissimo ma anche di tipo economico dove perché no se viene fin cantieri a sistemare anche i mega yacht va benissimo, se lì si pensa come Zeno Agostino sta lavorando di portare le navi a crociera in nuovo terminal che poi faccia attraversare le persone che scendono a una grande realtà di tipo commerciale di eccellenza anche con le realtà del nostro territorio, ma perché no? Non solo i fiori del nostro territorio, magari il vino del carso, l'olio del carso, le eccellenze dei made in Italy, io credo che le potenzialità sono moltissime, il problema è che dobbiamo parlarne, la sdemalizzazione ormai ha cinque anni, in cinque anni è successo pochino ma io credo che nei prossimi settimane, nei prossimi mesi ne riparleremo sicuramente. A cominciare dalla società di gestione. A partire dalla società di gestione che è non a caso lo sblocco di tutto e se qualcuno come sta lavorando vuol tenere fermo Portovecchio, in questo momento sta bloccando una società di gestione che con il sindaco di piazza avevamo deciso di fare, di costituire tre anni fa e la maggioranza che lo sostiene oggettivamente non gli ha fatto fare.